Mimmo Bulzumi, siamo a Trento da Moser dove è appena consegnato un'opera del maestro Antonio Lagamba. Per festeggiare i 40 anni di rapporti tra lo sporting e Francesco, anche 45 anni, però noi diciamo 40 anni di amicizia, di sincera amicizia tra lo sporting club di Mileto e Francesco Moser. Racconta la sua storia nel manifesto che noi abbiamo presentato e gli abbiamo regalato più, l'opera realizzata di Antonio Lagamba che racconta la storia del 1984 vincitori del Giro d'Italia e nei 40 anni dell'84 del Ricordo dell'Ora, un'opera meravigliosa a cui già Francesco con Lagamba l'ha sistemata fuori del suo museo a perenni e il ricordo del rapporto di una grande amicizia.